Uomo politico, giornalista, docente storico della Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, ma soprattutto toscano, è Giovanni Spadolini, a cui nel giorno che sarebbe stato del suo 92esimo compleanno è stato intitolato l'auditorium del Consiglio regionale in Palazzo del Pegaso a Firenze. Cerimonia di scopertura della targa alla presenza di autorità, amici ed ex colleghi accademici di Spadolini, che entra così tra i toscani del dopoguerra a cui il Consiglio, dopo Calamandrei, ha deciso di rendere omaggio. Giovanni Spadolini, che è stato, sappiamo bene, il Presidente del Consiglio in un'epoca particolarmente difficile e delicata, garantendo un rapporto con le istituzioni da parte dei cittadini di assoluta autorevolezza, rispetto, è una figura che si staglia nella nostra storia. L'intitolazione dell'auditorium a Giovanni Spadolini è stata anche l'occasione per ricordare il profondo legame che il primo ministro dei beni culturali d'Italia ha sempre mantenuto con le sue radici a Firenze e più in generale in Toscana. Di queste radici Spadolini ha conosciuto tutto, perché come storico, in particolare, si dedicava proprio alla storia anche dei paesi più minuscoli della Toscana. Poteva essere Ferdinando Martini, poteva essere Collodi per Pinocchio e per Collodi, poteva essere i Macchiaioli e quindi Rosignano. Una storia toscana che Spadolini ha esportato nel mondo e che oggi è immortalata nella targa in Palazzo del Pegaso.